Ventunesima lezione del mio corso della fisica facile. In questa lezione comincio il programma dei quinti anni delle superiori. In particolare cominciamo in questa lezione con cariche e campi elettrici. Quindi parlerò della carica elettrica, la legge di Colum, il campo elettrico, il potenziale elettrico, il moto di una particella in un campo elettrico e di condensatori. Ovviamente anche in questa lezione ci saranno degli esercizi per poter applicare i concetti appresi. E cominciamo. La carica elettrica. Oggi siamo abituati all'energia elettrica che manda avanti il nostro mondo tecnologico. Ma in cosa consiste esattamente la carica elettrica? Facciamo un piccolo esperimento che si può fare tranquillamente a casa. Basta prendere una pacchetta di plastica e un maglione. Se noi strofiniamo la pacchetta di plastica al maglione, questa pacchetta di plastica può praticamente attrarre dei pezzettini di carta. Che cosa è successo? Praticamente con la pacchetta di plastica abbiamo strappato degli elettroni dal maglione perché le caratteristiche delle molecole che compongono il maglione e la maglia in particolare rendono facile l'estrazione di elettroni in questo modo. E la bacchetta che così si è caricata di elettroni acquisisce una leggera carica elettrostatica che riesce a sollevare questi pezzettini di carta. Quindi in realtà, anche se con l'esperienza di tutti i giorni non siamo abituati a percepire una carica elettrica della materia, in realtà anche la stessa materia di cui siamo fatti noi o il maglione stesso ha la capacità di acquisire una capacità elettrica. Infatti normalmente la materia è fatta da cariche elettriche e noi non la percepiamo perché c'è un numero di cariche elettriche positive equivalente a un numero di cariche elettriche negative e queste fa sì che si neutralizzano. Ma basta, come in questo caso, riuscire a strappare un po' di elettroni che un oggetto normalmente neutro acquisisce una leggera carica elettrica. Strofinare una bacchetta di plastica o di vetro su alcuni materiali come la lana permette di strappare gli elettroni dagli atomi che la compongono elettrizzandola. Quindi se questi elettroni si accumulano su questa bacchetta, danno a questa bacchetta una caratteristica elettrica. E possiamo vedere che magari due oggetti elettrizzati possono attrarsi o rispingersi in base a quale carica elettrica riescono ad accumulare su di essi. Dobbiamo vedere cosa dipende questa carica elettrica. Gli elettroni sono vincolati all'interno degli atomi, ma ci sono alcuni legami rispetto ad altri che permettono a questi elettroni di liberarsi più facilmente. In particolare, il legame metallico è un legame che permette agli elettroni più esterni degli atomi di essere più liberi e muoversi attraverso il mezzo che compongono questi atomi. Si chiama questo legame metallico. Lo vedremo in dettaglio quando faremo i legami chimici nel corso di chimica. Però dobbiamo dire che la materia normalmente si distingue in due grandi categorie per quanto riguarda la corrente elettrica. Isolanti, materiale che non si lasciano attraversare da un flusso di elettroni, sono tutti i materiali costituiti da legami chimici prevalentemente ionici e covalenti, in cui gli elettroni sono vincolati all'interno degli atomi e questi non sono liberi di muoversi. Può succedere che, come nel caso della bacchetta di plastica o di vetro che viene fatta strofinare con un maglione, alcuni elettroni possono essere strappati, ma perché le molecole che compongono il maglione sono messe in modo che riescono a perdere facilmente alcuni elettroni. Però normalmente gli elettroni sono vincolati all'interno dei legami chimici. Esiste invece un altro tipo di materiale chiamati conduttori, che invece si lasciano attraversare facilmente gli elettroni. E questo è il caso proprio degli legami metallici, in cui alcuni elettroni, i più esterni degli atomi, sono liberi di muoversi tra di loro. E questo permette il passaggio di corrente elettrica. Vedremo questo bene in dettaglio quando parlerò della corrente elettrica nella prossima lezione. Vediamo di che cosa ha fatta la materia. La materia è costituita da particelle elettriche e da particelle neutre. In particolare abbiamo tre particelle subatomiche, che sono i protoni, i neutroni e gli elettroni. I protoni e i neutroni si trovano all'interno del nucleo atomico. Il protone ha una carica positiva e il neutrone ha una carica neutra. Entrambi hanno una massa più o meno simile. Mentre l'elettrone, che è una particella con carica negativa, è 1800 volte più leggera delle precedenti due particelle e ruota intorno al nucleo con delle orbite prestabilite, che normalmente vengono chiamate orbitali. Nonostante l'elettrone sia molto più piccolo, abbia una massa molto più piccola di quella di un protone, di fatto ha una carica uguale e contraria. Quindi il protone ha una carica positiva, l'elettrone invece ha una carica negativa. Quando gli atomi sono vincolati a legami chiusi, come quelli covalenti e ionici, la materia non permette il passaggio di elettroni. Gli elettroni più difficilmente si perdono, si strappano dagli atomi. Non è detto che non succeda. Succede quando strofino la bacchetta di plastica o di vetro contro un maglione, sto strappando gli elettroni da dei legami covalenti. Però non è che c'è una perdita così abbondante, quindi il maglione stesso, la bacchetta stessa, anche se acquisiscono una leggera carica elettrica, però complessivamente si possono dire sempre, normalmente abbastanza neutri. Mentre nel cambio metallico, la perdita di elettroni avviene più facilmente. La materia che noi conosciamo, normalmente è neutra, perché abbiamo un numero di cariche elettriche positive, equivalenti a quelle negative. Se, come nel caso della bacchetta di vetro o di plastica, strofinando della lana, togliamo alcune cariche elettriche della lana e le accumuliamo sulla bacchetta, i due oggetti acquisiscono una leggera carica non neutra. Il maglione sarà positivo perché avrà perso degli elettroni e quindi ci sarà un saldo di protoni maggiore e la bacchetta avrà una carica negativa perché ha acquisito degli elettroni, quindi avrà un saldo negativo. Però normalmente le forze che riescono a accumulare non sono così forti da modificare il comportamento della materia. Ci sono casi particolari in cui un pezzo di materia riesce a perdere talmente tanti elettroni da acquisire una carica molto forte. Vedremo che ci sono alcuni componenti dei circuiti come i condensatori che riescono ad accumulare forti cariche e creare forti tensioni elettriche e lo vedremo sempre in questa lezione. Vediamo in quali modi possiamo elettrizzare un materiale. Cominciamo dall'elettrizzazione per contatto. È possibile elettrizzare un corpo neutro mettendo a contatto fisico con uno carico permettendo così il passaggio di cariche elettriche e queste si distribuiscono in modo omogeneo nei due corpi così messi in equilibrio elettrostatico. Avviene ogni volta che prendiamo la scossa o diamo la scossa a qualcuno. Se una persona ha accumulato, magari perché c'è stato vento fuori o per vari motivi, una carica elettrica sul suo corpo, se ne rende conto quando, toccando un oggetto o una persona non carica o viceversa sempre, sentiamo la scossa. Perché sentiamo la scossa? Perché c'è questo passaggio di corrente elettrica che va a neutralizzare la differenza di carica che ci sono tra le due persone prima del contatto. Qui abbiamo uno strumento interessante, questo è un elettroscopio. Vediamo una bacchetta che è stata caricata positivamente, quindi avrà peso degli elettroni. Se la bacchetta tocca questo strumento, per conduzione, tutti e due sono conduttori, praticamente gli elettroni passano in questo strumento, si distribuiscono in modo omogeneo in tutto lo strumento, il vetro fa da isolante, quindi non abbiamo perdi gli elettroni all'esterno. E che cosa succede? Che i due foglietti, le due lamine che sono caricate di elettroni, si respingono perché due cariche positive uguali creano una forza ripulsiva. Quindi non appena la bacchetta carica distribuisce la sua carica anche nella sticciola all'interno con i due foglietti, appena i due foglietti si caricano, si respingono. Quindi qui abbiamo una elettrizzazione per contatto. È possibile ovviamente farlo anche tra di noi, per esempio se tocchiamo questa bacchetta con la mano, anche noi di fatto siamo dei conduttori e possiamo assorbire la sua carica elettrica, di conseguenza una volta che la carica elettrica si disperda in una quantità di corpi maggiori, ovviamente il suo effetto diminuisce e i due foglietti si avvicinano. Se invece io toccassi questo oggetto con un isolante come un guanto di gomma, la carica elettrica rimane isolata nel corpo. Quindi anche qui dobbiamo vedere che il passaggio di carica elettrica avviene tramite corpi conduttori. Noi siamo conduttori, un guanto di gomma non lo è. Quindi quando diamo una scossa a un'altra persona è perché di fatto noi conduciamo corrente elettrica. Vediamo com'è possibile elettrizzare per induzione un corpo. Io avvicino una bacchetta carica ad elettroscopi, queste elettroscopi sono collegate a delle bacchette conduttrici e su queste bacchette conduttrici si vanno a polarizzare delle cariche. Una volta che io separo queste cariche loro hanno praticamente acquisito una carica che mantengono anche se l'iniziale bacchetta carica ne viene allontanata. Quindi una bacchetta carica ha indotto una carica elettrica su un sistema che prima era neutro. Qui vediamo un altro esempio. Immaginiamo che con una bacchetta caricata negativamente vada a toccare un corpo che appare neutro ma è neutro nonostante abbia delle cariche elettriche libere sopra. Perché ha delle cariche elettriche ed è neutro? Perché queste cariche elettriche sono in equal numero positive e negative e quindi si autoneutralizzano. Consideriamo questo corpo isolato da terra. Se con questo corpo, anche se ha delle cariche libere ma complessivamente neutro e isolato da terra lo tocco con un corpo che è prevalentemente negativo può essere anche positivo ma in questo caso consideriamo che fosse negativo questo corpo negativo gli va a sottrarre le cariche negative quindi il corpo che prima era neutro seppur aveva cariche libere adesso ha solamente cariche libere positive acquisisce una carica elettrica positiva quindi le sue cariche elettriche libere positive che prima erano neutralizzate le cariche elettriche libere ma negative adesso sono da sole e conferiscono al corpo che prima era neutro una carica positiva. Quindi in questo caso ho indotto un'elettrizazione. L'elettrizazione di un corpo per induzione elettrostatico consiste in una ridistribuzione di cariche che erano già presenti sul corpo però va ad alterare la somma geica che prima era nulla e invece adesso nulla è più e questo si chiama il fenomeno della polarizzazione. Adesso vediamo in dettaglio la legge di Colum ovvero la legge della forza elettrica. due cariche elettriche che abbiano segno opposto o uguale generano tra loro una forza che può essere rispettivamente repulsiva o attrattiva ovvero repulsiva se le cariche sono uguali meno con meno e più con più oppure attrattiva se sono opposte più con meno. Questa si chiama forza di Colum e vediamo che la forza di Colum equivale a una costante di elettrica nel vuoto che equivale a 9 per 10 alla 9 a Newton per metro al quadrato fatto con Colum al quadrato che moltiplica il prodotto delle due cariche che interagiscono fratto l'inverso del quadrato della distanza quindi fc equivale a k per q1 per q2 fratto r quadro. Facciamo questo esercizio con quale forza si respingono due cariche positive di 5 Colum poste nel vuoto a distanza di 3 metri. Applichiamo la legge di Colum appena spiegata fc uguale a k per q1 per q2 fratto r quadro vado a sostituire i valori qui ovviamente le cariche sono uguali 5 per 5 sono entrambe positive quindi la forza sarà repulsiva vado a semplificare Colum al quadrato con i due Colum qua sopra sottraggo anche i valori del metro quadro e ottengo che la forza equivale a fc 25 per 10 alla 9 a Newton infatti semplificando l'unità di misura mi rimane solamente Newton come unità di misura che è l'unità di misura della forza. Normalmente un Colum è una carica enorme per una singola particella negli esercizi troverete valori molto più piccoli lo possiamo vedere dall'enorme ordine di grandezza della forza generata da queste due cariche elettriche però normalmente una particella ha qualcosa del tipo 1 per 10 alla meno 8 per 10 alla meno 11 un ordine molto più piccolo rispetto a questo quindi ho messo qui un Colum solamente per rendere facile il cacco e far capire come si utilizza questa formula ma in realtà un Colum è veramente una quantità enorme di carica per una singola particella. Ora andiamo avanti e mettiamo a confronto la forza di Newton cioè della gravità con quella di Colum elettrica la forza di Colum è incredibilmente simile a quella di Newton infatti la forza come vedete è inversamente proporzionale alla distanza dei due sorgenti vedete sia la forza di gravità che la forza di Colum diminuiscono con il quadrato della distanza e sono entrambe direttamente proporzionali al prodotto delle due sorgenti nel caso della gravità delle due masse nel caso della forza elettrica delle due cariche e entrambe vengono moltiplicate per una costante nel caso della gravità è Kg 6,67 per 10 alla meno 11 mentre nel caso della forza elettrica è Ke o K0 che equivale a 9 per 10 alla 9 le unità di misura come vedremo anche quelle sono abbastanza simili quindi quali sono le caratteristiche che rendono simili queste forze? entrambe agiscono a distanza tra corpi ben definiti entrambi sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza in entrambi i casi la forza agisce lungo la linea retta dei due corpi forza elettrica e forza gravitazionale hanno in comune anche il verso della forza quali sono invece le caratteristiche che le rendono diverse? intanto la forza gravitazionale si esercita fra tutti i corpi e dipende unicamente dalle loro masse oltre che dalla loro distanza mentre la forza elettrica si esercita solamente tra corpi che hanno una carica elettrica poi ancora la forza gravitazionale è sempre attrattiva mentre quella elettrica può essere sia attrattiva che repulsiva ancora la forza elettrica risente del mezzo tra le due cariche se c'è dell'aria o dell'acqua o una sostanza solida tra le due cariche questo va a smorzare l'effetto della forza mentre nel caso della gravità non importa se tra le due masse c'è un mezzo o c'è il vuoto l'intensità è sempre quella la presenza di un mezzo in cui sono immersi i corpi che si attraggono non va a influenzare sulla gravità mentre nel caso della forza elettrica sì, se c'è dell'aria, se c'è dell'acqua, c'è un mezzo la forza elettrica invece si indebolisce la forza di gravità è milioni di volte più debole di quella elettrica infatti la gravità non la percepiamo a livello cosmico cioè è una forza che noi sentiamo tra pianeti mentre le cariche elettriche sono abbastanza forti e milioni di volte più forti muoveremo anche di quanto più forte tanto che due cariche elettriche che si attraggono lo possiamo percepire benissimo cioè la forza tra due cariche elettriche può essere paragonabile a quella che c'è tra i pianeti quindi vediamo che le due forze viaggiano su ordini di grandezza veramente molto diversi facciamo questo esercizio calcolare il rapporto fra l'intensità della forza elettrica e l'intensità di quella gravitazionale che si esercita fra il nucleo dell'idrogeno formato da un solo protone e il suo elettrone la distanza fra l'elettrone e il protone dell'atomo di idrogeno ha un raggio di 5,3 per 10 almeno 11 metri allora intanto facciamo una premessa la forza elettrica che si esercita fra il protone e l'elettrone è data dalla forza di Column vi ricordo che la carica elettrica dell'elettrone è uguale e contraria a quella del protone quindi sono due cariche di pari entità ora andiamo a sostituire i dati ricordiamoci che la forza elettrica si misura tramite la forza di Column appena spiegata che fc equivale a k con 0 cioè costante di elettrica del vuoto per il prodotto delle due cariche elettriche che in questo caso sono uguali entità perché l'elettrone e il protone hanno la stessa carica ma di segno opposto fratto la loro distanza al quadrato vado a sostituire i dati e trovo che la costante di elettrica del vuoto 9 per 10 alla 9 ogni 1 per metro quadrato che moltiplica il prodotto delle due cariche io qui ho messo 1,6 per 10 almeno 19 elevato al quadrato perché 1,6 per 10 alla meno 19 è sia la carica elettrica del protone che quella dell'elettrone di conseguenza ho elevato lo stesso valore al quadrato perché è moltiplicato due volte per se stesso quindi anche l'unità di misura ne esce fuori dal quadrato fratto ovviamente la distanza espressa in metri infatti alla 10 meno 11 elevato al quadrato perché è inversamente proporzionale al quadrato della distanza prima di andare avanti semplifico le unità di misura quindi Column al quadrato va via con Column al quadrato metri al quadrato va via con metri al quadrato mi rimane solamente l'unità di misura della costante di Newton per ovviamente le cariche elevate al quadrato l'ho fatta dalla distanza al quadrato tutto quanto esce fuori una forza di 8,2 per 10 almeno 8 Newton come vedete se io metto valori verosimili come la reale carica del protone e la reale carica dell'elettrone trovo una forza verosimile ovvero dell'ordine di 10 almeno 8 prima nell'esercizio precedente ho utilizzato cariche di un Column e quindi di conseguenza è uscita fuori una forza gigantesca però ecco questo è più un valore verosimile ora vediamo di quanto questa forza è diversa da quella di carità vedremo che la carità è molto più debole di questo 10 almeno 8 quindi andiamo a fare lo stesso procedimento calcolandoci la forza di carità tra le due particelle in questo caso devo considerare le due masse e non le due cariche elettiche perché la carità avviene tramite le masse la forza è sempre quella Fg equivale a K per G per il prodotto delle due masse fratto la distanza elevata al quadrato anche qui espressa in metri vado a sostituire il valore con il Kg che moltiplica il prodotto delle masse dei due oggetti questa volta i due valori non sono uguali perché come già detto all'inizio di questa lezione l'elettrone è 1800 volte più debole del protone e quindi ovviamente se vedete l'ordine di grandezza tra il protone e l'elettrone varia di ben 4 ordini di grandezza infatti la massa dell'elettrone è 1800 volte più piccola della massa del protone espressa ovviamente in kg fratto la distanza al quadrato ovviamente in m² vado a semplificare le unità di misura quindi kg al quadrato con i due kg del numeratore di qua in m² con il m² mi rimane solamente N con un po' di misura infatti la forza si misura in N e mi esce fuori una forza di 3,6 per 10 alla meno 47 N se adesso io confronto l'entità delle due forze vediamo che quella elettrica è milioni di volte più forte di quella gravitazionale infatti vado a semplificare una forza con un ordine di grandezza di 10 alla meno 8 N fratto una con l'ordine di grandezza di 10 alla meno 47 N sono ben 39 ordini di grandezza differenti tant'è vero che il rapporto mi esce fuori di 2,27 per 10 alla 39 e quindi vediamo che la forza di gravità è di circa 39 ordini di grandezza minore di quella elettrica e questo spiega infatti che noi la percepiamo a livello cosmico cioè tra pianeti non percepiamo la gravità tra due sassi o tra due particelle mentre percepiamo benissimo la gravità tra due particelle oppure tra due oggetti per esempio caricate elettricamente quindi ovviamente la forza di gravità è molto molto debole ci vogliono masse enormi per poterla percepire a livello macroscopico mentre l'altra ha bisogno di poche cariche elettriche che potrà essere percepita andiamo avanti e parliamo del campo elettrico si definisce campo di forze uno spazio in cui agiscono delle forze su oggetti che possono percepirlo nel campo gravitazionale le forze vengono percepite da tutti gli oggetti che possiedono una massa mentre in quello elettrico lo percepiscono solo quegli oggetti che hanno una carica elettrica la sorgente di un campo non agisce direttamente sugli altri corpi ma in qualche modo modifica lo spazio intorno ad esso e quindi interagisce in modo indiretto con questi altri corpi la deformazione dello spazio in un campo di forze è rappresentata con le linee di forza ovvero linee invisibili che ci indicano la direzione e il verso delle forze in ogni loro punto qui vediamo delle rappresentazioni grafiche qui ci sono tre particelle che hanno modificato lo spazio intorno a loro quindi hanno creato un campo elettrico e rappresentato da queste linee di forza e ovviamente interagiscono tra loro e noi percepiamo queste interazioni sotto forma di forze poi vediamo la terra e il campo gravitazionale che ovviamente ha tutte le linee di forza che vanno verso il centro del pianeta e qui vediamo due poli magnetici con le linee di forza visualizzate da della limatura di ferro che intorno a loro percepiscono la forza a punto a punto tanto è vero che sono orientate e ci fanno vedere fisicamente queste linee di forza invisibili andiamo avanti ecco qui una rappresentazione grafica vediamo che queste linee di forza interagiscono tra loro noi come ce ne accorgiamo queste linee di forza basta misurare il campo in ogni punto in ogni punto la forza avrà la direzione e il verso della linea di forza in quel punto ad esempio ho preso dei punti a caso in questi campi vedete che in ogni singolo punto le forze avranno la direzione e il verso della linea di forza del campo in quel dato punto quindi ovviamente un campo molto regolare come quello gravitazionale visto prima avrà tutte le forze molto più ordinate ad esempio visto che il campo gravitazionale terrestre è costituito da un solo polo un solo punto e tutte le linee di forza verso quel punto abbiamo che è molto regolare e quindi su tutta la terra le forze agiscono verso il basso verso il centro della terra quando invece il campo è molto più movimentato perché ci sono più poli più forze che interagiscono abbiamo che in diversi punti le forze hanno direzione e verso totalmente diverso poi l'intensità della forza dipende dalla distanza e dall'interazione delle sorgenti infatti dalla formula di Colum vediamo che l'intensità della forza elettrica dipende dall'inverso del quadrato della distanza andiamo avanti e vediamo come si calcola il campo elettrico si calcola facendo la forza fratto la carica quindi abbiamo che il campo elettrico misurato in Newton fratto Colum equivale a forza elettrica con la forza di Colum vista prima espressa in Newton fratto la carica elettrica espressa in Colum possiamo avere due tipi di campi elettrici positivo o negativo se la sorgente è negativa le linee di forza andranno verso la sorgente se invece la carica è positiva le linee di forza saranno uscenti dalla sorgente quindi una forza applicata in questo campo avrà verso opposto rispetto alla sorgente andiamo avanti che succede se mettiamo due cariche uguali vicine vedete che le linee di forza si respingono e quindi questa è la forma del campo elettrico intorno a due cariche positive o negative che interagiscono tra loro e questa invece è la forma del campo elettrico nel caso che le due cariche che interagiscono sono di segno opposto come vedete le linee di forza sono uscenti dal polo positivo ed entranti in quello negativo e vediamo adesso di parlare un po' di formule quindi come calcolare il campo elettrico di una carica puntiforme allora questa è la formula vista prima campo elettrico che equivale a forza fratto carica elettrica io so che la forza elettrica di colombo equivale a questa l'abbiamo vista prima c'è costante di elettrica del vuoto per il prodotto di due cariche fratto la distanza al quadrato fratto la carica elettrica io posso semplificare questa carica con questa carica e quindi posso ottenere la formula del campo elettrico dato da una singola carica che equivale a K0 per quella carica fratto la distanza al quadrato come vedete si mantiene costante la regola per cui l'intensità del campo elettrico così come la forza diminuisce con il quadrato della distanza fratto R quadro e quindi Q è la carica puntiforme quindi una carica puntiforme genera un campo elettrico mentre la Q piccola che abbiamo semplificato è una carica messa nel campo elettrico genera da Q che percepisce quindi la forza elettrica quindi la forza elettrica di questo campo elettrico viene percepita o esiste solamente se c'è una seconda carica nel campo che lo percepisce se nel campo elettrico non c'è nessuna carica elettrica c'è il campo elettrico ma non c'è nessuna forza elettrica perché la forza di colomb elettrica si esercita solamente su una carica presente in quel campo se in quel campo non c'è una seconda carica che può percepire questa forza di colomb non c'è nessuna forza di colomb da calcolare in soldoni questa formula ci dice che come già detto il campo elettrico dipende unicamente dalla carica che lo genera e dalla sua distanza che è inversamente proporzionale al suo quadrato e da una costante che è sempre quella la costante di rettica del vuoto K0 9 per 10 alla 9 m² per newton fratto colomb al quadrato come vedete anche qui sempre non esiste la forza di colomb se non c'è una seconda carica nel campo a percepirla adesso vediamo che succede quando due o più cariche interagiscono in un campo elettrico perché queste cariche ovviamente hanno il loro campo elettrico e possiamo vedere la forza che si forma in un dato punto prendiamo quindi queste cariche Q1 Q2 Q3 e prendiamo un punto a caso nel campo che coloro generano ovviamente in questo spazio tra queste cariche ci sarà il loro campo elettrico adesso non lo rappresento se no l'immagine diventa troppo confusa quando dobbiamo fare il calcolo dei vettori immaginiamo un campo elettrico sciente perché sono tutte e tre cariche positive e prendiamo un punto a caso di questa zona e vediamo qual è la forza risultante di queste tre cariche quindi calcoliamo in quel dato punto il valore del campo elettrico per ogni singola carica elettrica quindi vediamo che questo è il valore del campo elettrico generato dalla prima carica questo è il valore del campo elettrico generato dalla seconda carica e questo è il valore del campo elettrico generato dalla terza carica cominciamo con la regola della somma vettoriale a sommare i primi due quindi qui ho tracciato già le rette parallele ai vettori opposti e la risultante sarebbe il vettore che unisce il punto con le intersezioni di queste due rette abbiamo già visto come si fa la somma grafica vettoriale nelle prime lezioni di questo corso adesso se voglio trovare la sommatoria totale basta che faccio la somma vettoriale di questo vettore che è già risultante delle prime due con il terzo vettore qui le rette parallele al vettore opposto sono già tracciate e trovo quindi il campo elettrico risultante in questo punto vi ricordo che le mie forze qui sono molto complicate quindi ovviamente in ogni dato punto ci sarà un vettore diverso in questo dato punto l'ho calcolato semplicemente applicando i campi elettrici per ogni singola carica in quel punto usando la forza k per q fratto r quadro e ovviamente poi ho fatto la somma vettoriale considerando sempre direzione, intensità e verso ed ecco qui la risultante quindi questa è in teoria come si calcola il campo elettrico risultante tra due o più cariche interagenti adesso parliamo dell'energia potenziale e del potenziale elettrico facciamo un piccolo ripasso e andiamo a vedere com'era il potenziale gravitazionale se vi ricordate noi abbiamo un oggetto a una data altezza che ha un dato potenziale gravitazionale che lo libera trasformando in energia cinetica man mano che cade l'oggetto che prima stava nella posizione A cadendo alla posizione B perde energia potenziale gravitazionale ma la converte in energia cinetica questo avrà una velocità maggiore rispetto a questo quindi andando sempre a ripassare quello già fatto il lavoro svolto da un oggetto che cade equivale all'efferenza di energia potenziale tra i punti prima e dopo la caduta e la differenza viene convertita in energia cinetica questo l'abbiamo già fatto nella lezione di energia meccanica quindi potete ritornare a quella lezione quindi vi ricordo il lavoro del campo elettrico misurato in joule massa in kg dell'oggetto il dislivello che fa mentre cade e la fossa gravità di 9 quadratura metà al secondo quadrato questo l'abbiamo già visto è il discorso della conversione dell'energia potenziale e gradiazionale in energia cinetica perché ho fatto questo ripasso? perché anche un campo elettrico può conservare energia potenziale elettrica e una particella al suo interno può convertire energia cinetica tramite un lavoro e uno spostamento quindi ricordiamoci che un campo elettrico equivale a forza fratto carica quindi la forza elettrica equivale al campo elettrico per carica e quindi se io ho una particella carica in un campo elettrico lei subirà uno spostamento che andrà dalla parte positiva verso cura negativa se la carica elettrica è positiva e ovviamente questo spostamento genererà un lavoro il lavoro dal punto A al punto B che il campo elettrico fa sulla particella equivale a forza di columb per spostamento ma è anche equivale se io vado a sostituire questa formula qua dentro a campo elettrico per carica elettrica per spostamento quindi il lavoro del campo elettrico non è solamente equivalente alla differenza di energia potenziale tra i due punti o a forza di columb per spostamento ma è anche uguale alla carica per lo spostamento per il campo elettrico stesso ora se noi mettiamo a confronto l'energia potenziale gravitazionale con quella elettrica possiamo dire che l'energia potenziale elettrica è immagazzinata nel campo elettrico così come l'energia potenziale gravitazionale è immagazzinata nel campo gravitazionale quindi anche il campo elettrico come quello gravitazionale c'è energia che può essere estratta la differenza di potenziale elettrico equivale a Va-Vb cioè il lavoro fratto la carica mi dà la differenza di potenziale quando faremo i circuiti nella prossima lezione vedremo che la differenza di potenziale è il motore che mette in moto la corrente all'interno di un circuito quindi la differenza di energia potenziale in un campo elettrico tra i due punti A e B fratto la carica che la subisce mi dà la sua differenza di potenziale elettrico e si misura in Volt un Volt equivale a un Joule fratto un Column facciamo questo esercizio calcolare la differenza di potenziale tra i punti A e B in un campo elettrico sapendo che le forze del campo compie un lavoro di 0,5 Joule su una particella positiva che ha una carica di 10 alla meno 8 Column anche qui potete vedere quanto è piccola l'ordine di grandezza in Column di una carica andiamo avanti e andiamo ad applicare la formula appena vista quindi differenza di potenziale da punto A a punto B equivale al lavoro fratto la carica elettrica e entrambi i dati si sono forniti dal testo quindi basta che sostituisco il lavoro con 0,5 Joule e la carica con 10 a meno 8 Column e otteniamo che la differenza di potenziale che il campo elettrico svolge sulla particella con la forza che vi applica sopra equivale a 5 per 10 alla 7 volt ovvero a 50.000 volt andiamo avanti quindi la capacità che ha un campo di compiere lavoro dipende proprio dalla differenza di potenziale maggiore è la differenza di potenziale e maggiore il lavoro che una carica può fare al suo interno infatti come vedremo batterie molto potenti hanno un delta V molto forte infatti più la differenza di potenziale è forte e più la corrente nel circuito va veloce ed è forte la vedremo quando faremo nella prossima lezione i circuiti riguardiamo un attimo queste formule la differenza di energia potenziale tra due punti in un campo elettrico mi dà il lavoro che deve essere compiuta su una particella per spostare dal punto A al punto B può essere compiuta dal campo elettrico o contro il campo elettrico poi vedremo anche questo la differenza di potenziale è il lavoro fratto la carica quindi se io unisco questa formula con questa formula ottengo che il lavoro equivale ha la carica elettrica per la differenza di potenziale se una particella viene messa in un campo tra un lavoro tra punto A e punto B maggiore di zero abbiamo che la carica elettrica per la differenza potenziale è maggiore di zero con una particella che ha carica positiva abbiamo che il potenziale nel punto A è maggiore del punto B se invece ha una carica negativa è il contrario il potenziale nel punto A è minore del punto B le particelle positive sotto l'azione delle forze del campo elettrico si muovono da un punto di potenziale maggiore a un punto di potenziale minore al contrario le particelle negative sotto l'azione delle forze del campo elettrico invece si muovono al potenziale minore verso il potenziale maggiore vediamo adesso la relazione che c'è tra il campo e il potenziale elettrico immaginiamo due piastre di un condensatore che sono caricate positivamente e negativamente ovviamente le linee di forza avranno un verso che andranno dalla parte positiva verso la parte negativa se in questo campo immergiamo una particella con carica positiva questa subirà una forza che la farà spostare verso la parte negativa quindi subirà un lavoro causato dalla forza elettrica che il campo elettrico di genera sopra quindi il lavoro che questa particella subisce dal campo elettrico equivale alla carica elettrica della particella per la differenza di potenziale che c'è tra il punto A e il punto B quindi se il lavoro ci ricordiamo è forza per spostamento e se vi ricordate nell'esercizio precedente abbiamo detto che è anche equivale a carica per campo elettrico per spostamento possiamo dire che la carica per differenza di potenziale equivale alla carica per il campo elettrico per lo spostamento carica e carica possono semplificarsi e mi rimane che la differenza di potenziale equivale a campo elettrico per spostamento quindi ora abbiamo una nuova formula per calcolare il campo elettrico che equivale alla differenza di potenziale tra il punto A e il punto B fratto la distanza tra il punto A e il punto B andiamo avanti e facciamo questo esercizio calcolare l'intensità del campo elettrico uniforme esistente tra due lastre cariche di segno opposto sapendo che la distanza tra esse è di circa 10 cm e la differenza di potenziale è di circa 750 V dalla relazione appena vista nella sala di precedente possiamo dire che il campo elettrico equivale alla differenza di potenziale dal punto A al punto B per esempio in questo caso dalle due piastre fratto la distanza delle due piastre quindi il campo elettrico equivale a 750 V fratto 0,10 metri perché dobbiamo sempre convertire la distanza in metri 10 cm sono 0,10 metri vado a svolgerlo e mi esce fuori che il campo elettrico tra queste piastre equivale a 7500 V al metro ora cambiamo argomento e parliamo della gabbia di Faraday che cos'è la gabbia di Faraday? una carica elettrica può essere convogliata tramite un conduttore è possibile utilizzare questo principio per creare uno spazio protetto dove questa non può passare questo è il concetto della gabbia di Faraday qui abbiamo un conduttore che avvolge uno spazio chiuso la carica elettrica verrà distribuita lungo il conduttore evitando che lo spazio al suo interno venga elettrizzato quindi qui potete vedere un esempio in questa GIF potete vedere un uomo all'interno di una gabbia di Faraday anche se si trova sotto una forte scossa elettrica questa scossa elettrica non lo tocca perché la gabbia di Faraday lo protegge e la corrente scarica a terra senza interferire con lo spazio interno questa tecnologia è utilizzata molto sia per proteggere gli edifici dai fulmini che per esempio per isolare i cavi elettrici infatti alcuni cavi elettrici molto elaborati hanno una specie di gabbia di Faraday che li protegge da disturbi esterni vediamo adesso il moto di una particella dentro un campo elettrico immaginiamo qui una particella con carica positiva che si trova dentro un campo elettrico e ovviamente subirà una forza che lo sposterà verso la parte negativa del campo elettrico queste sono le linee di forza del campo elettrico come detto prima vanno dalla parte positiva verso la parte negativa quindi una particella carica all'interno di un campo elettrico uniforme subisce una forza equivalente a f forza elettrica uguale a carica elettrica cioè la carica della particella per il campo elettrico quindi di conseguenza ha anche un'accelerazione perché se vi ricordate la forza equivale a massa per accelerazione quindi posso trovarmi l'accelerazione che subisce questa particella facendo la formula inversa per ricavarmi l'accelerazione da queste due forze e quindi l'accelerazione equivale a forza fratto massa al posto della forza ci metto la formula della forza elettrica q per e e quindi l'accelerazione di una particella che ha una carica dentro il campo elettrico equivale a carica per campo elettrico fratto la massa della particella se una particella si trova in un campo elettrico costante ed uniforme l'accelerazione che subisce è direttamente proporzionale alla sua carica elettrica al modulo del campo elettrico ed inversamente proporzionale alla sua massa e cosa significa che la forza sarà maggiore se maggiore la carica maggiore il campo elettrico sarà minore se ovviamente è più pesante quindi se è più pesante ci vuole più fatica a spostarla ora detto questo visto che siamo in presenza di un'accelerazione il modo di una particella può essere studiato con la legge del modo uniformemente accelerato già fatta nelle prime lezioni di questo corso lo spazio equivale a v con 0 per t più un mezzo per t quadro questa è la formula per trovare lo spazio nel modo uniformemente accelerato mentre la velocità equivale a v con 0 più a per t questa è la formula per trovare la velocità nel modo uniformemente accelerato cioè il modo di una particella che subisce un'accelerazione in queste equazioni possiamo inserire quella che collega il campo elettrico e la carica vista nella slide precedente quindi se l'accelerazione equivale a q per e fratto m l'abbiamo visto poco fa allora io posso riscrivere queste equazioni però stavolta al posto accelerazione ci metto questa formula e quindi ho messo la carica elettrica e il campo elettrico nella formula per trovare lo spazio e la velocità del moto uniformemente accelerato perché questa particella subisce un'accelerazione immaginiamo due particelle qui il campo elettrico ho colisione di forza le cariche sono entrambe positive quindi se le particelle sono lasciate così ferme subiranno una spinta una forza verso la direzione delle linee di forza ora immaginiamo che la prima particella abbia già una sua velocità iniziale v con 0 quindi ovviamente una particella positiva dentro un campo elettrico che ha la velocità iniziale nella stessa direzione del campo elettrico subirà un'accelerazione e quindi la velocità finale sarà maggiore di quello iniziale se invece la particella carica positivamente avrà invece una velocità iniziale opposta rispetto a quella delle linee di forza l'accelerazione che subirà dal campo elettrico sarà negativa di conseguenza la velocità finale sarà minore di quello iniziale perché subirà una decelerazione perché sta andando contro le linee di forza ovviamente se le particelle hanno una carica opposta cioè negativa vale lo stesso discorso ma al contrario perché la particella negativa subirà una spinta dal campo elettrico che è opposta rispetto alle linee di forza e quindi avremo lo stesso discorso ma con i versi invertiti vediamo adesso invece che cosa succede se la particella ha una velocità iniziale che è perpendicolare alle linee di forza in quel caso avremo un moto parabolico come nel caso della caduta di un grave con velocità iniziale o orizzontale se una particella positiva ha una velocità iniziale in direzione perpendicolare a quella del campo elettrico conserverà la sua velocità iniziale perché ovviamente il campo elettrico agirà in un'altra direzione non va a interagire con questa velocità quindi la velocità iniziale sarà quella ancora finale perché il campo elettrico agirà su una direzione completamente diversa ma subirà un'accelerazione verso la direzione del campo elettrico che le farà tracciare un percorso parabolico mentre se la particella è negativa avrà un comportamento opposto ovvero subirà un'accelerazione nella parte opposta rispetto al verso del campo elettrico quindi avrà sempre una traiettoria parabolica con velocità iniziale perpendicolare in direzione di forza uguale a quella finale però ovviamente la direzione dello spostamento orizzontale sarà opposto perché una carica etica negativa si comporta in questo modo viene spinta verso la direzione opposta rispetto al campo elettrico e quindi ovviamente sempre lo stesso il comportamento si inverte quando cambia verso la carica elettrica facciamo adesso questo esercizio un elettrone viene accelerato da un campo elettrico uniforme e e da una differenza potenziale delta v di 5 per 10 alla quinta volt calcolare qual è la sua energia cinetica finale e la velocità che raggiunge possiamo scrivere l'equazione che lega l'energia del campo elettrico ue con la sua delta u secondo la relazione vista precedentemente ue energia del campo elettrico equivale a q carica elettrica per la differenza di potenziale tra il punto b e il punto a questa che è l'energia potenziale che il campo elettrico conserva dal punto a al punto b verrà convertita in energia cinetica dalla particella quindi intanto troviamo quant'è questa energia potenziale quindi faccio la carica elettrica dell'elettrone meno 1,6 per 10 alla meno 19 colum per la differenza di potenziale meno 5 per 10 alla quinta volt stavolta ho messo il meno perché essendo un elettrone questo va dal punto meno energetico a quello più energetico quindi di conseguenza ha un valore negativo meno per meno fa più mi viene fuori che l'energia cinetica equivale a 8 per 10 a meno 14 joule adesso il testo mi dice che tutta questa energia potenziale si converte in energia cinetica quindi se la formula l'energia cinetica è un mezzo m per v quadro allora a me che interessa la velocità devo trovare la formula inversa che equivale v radice quadrata di 2 volte energia cinetica fratto la massa vado a sostituire i valori considerando che l'energia cinetica è quindi 8 per 10 alla meno 14 joule faccio 2 per 8 per 10 alla meno 14 joule fratto la massa dell'elettrone che è di 9,1 per 10 alla meno 31 chilogrammi quindi con questa energia cinetica ottengo una velocità pari a 4,2 per 10 alla 7 metri al secondo facciamo quest'altro esercizio un protone entra in un campo elettrico con velocità di 5 per 10 alla quinta metri al secondo e ha una direzione che è perpendicolare alle linee di forza del campo elettrico quindi stavolta il caso è diverso rispetto a prima il campo elettrico ha un'intensità di 2 per 10 alla quarta newton per metro e al suo ingresso la particella passa 3 cm dalla piazza negativa del condensatore che genera il campo elettrico dobbiamo calcolare la traiettoria del protone all'interno di questo campo elettrico ovviamente la presenza iniziale porterà la particella verso il basso però le linee di forza del campo elettrico la sposteranno orizzontalmente quindi in moto sarà una parabola dobbiamo scomporre in moto delle sue componenti verticali e orizzontali se la componente verticale ha solamente un moto a velocità costante quindi utilizzo la formula per trovare lo spazio nel moto a velocità costante nella componente verticale metto il segno negativo perché per convenzione considero negativo il verso verso il basso mentre la componente orizzontale verrà studiata con la formula del moto uniformemente accelerato per trovare lo spazio perché essendoci la forza elettrica che agisce su la particella di conseguenza c'è anche un'accelerazione ogni volta che c'è una forza c'è sempre un'accelerazione e quindi dobbiamo utilizzare la formula del moto uniformemente accelerato stavolta la considero positiva perché la convenzione vi dice che se va verso destra è positiva quindi viene un mezzo a per t quadro più i 3 centimetri dalla piastra quindi più 3 se vi ricordate prima abbiamo scoperto che l'accelerazione equivale a q per e fratto m sostituendo i valori trovo che y ovvero la componente verticale equivale a 5 per 10 alla quinta mette al secondo per t vedremo che per risolvere il problema mi conviene invertire la formula e scriverla in funzione di t dove t equivale a 5 per 10 alla quinta mette al secondo per y questa è la formula in vestiturale di t poi x ovvero la componente orizzontale del moto equivale a un mezzo per a per t al quadrato più h dove a stavolta lo sostituisco con q per e fratto m abbiamo visto prima la formula che mette in relazione l'accelerazione con il campo elettrico e la carica di una particella ora visto che qua dentro io ho t come incognita vado a inserire il tempo qua dentro come vedete verrà fuori un modo parabolico quindi se il tempo equivale a 5 per 10 alla quinta mette al secondo per y metto questo valore dentro la seconda formula così ho tolto un'incognita sostituendo i valori otteniamo che x equivale alla carica del protone 1,6 per 10 alla meno 19 colomb per ovviamente 2 per 10 alla quarta il campo elettrico per il tempo al quadrato che deve essere questa quantità al quadrato più lo spazio ovviamente dalla piastra che è di 3 centimetri spesso in metri 0,03 metri tutto quanto fratto un mezzo quindi era il 2 qua sotto per la massa del protone che è 1,67 per 10 alla meno 27 kg cosa mi esce fuori mi esce fuori un'equazione di secondo grado 9,5 per 10 alla dodicesima per t al quadrato più 0,03 e quindi questa è un'equazione di secondo grado del tipo ax più c che è l'equazione di una parabola infatti poi svolgendola posso trovare proprio le coordinate della parabola quindi cosa ho dimostrato con questo esercizio che se io metto in redazione i due moti verticale e orizzontale alla fine trovo l'equazione matematica di una parabola adesso cambia argomento e vediamo finalmente che cos'è un condensatore li ho accennati più volte prima quando generavo un campo elettrico ora vediamo che cosa sono un condensatore è un dispositivo che accumula cariche e ne esistono di diverse tipologie o meglio anche forme abbiamo ad esempio il condensatore piano costituito da due piastre piane separate da uno spazio vuoto abbiamo poi il condensatore sferico costituito da una sfera cava contenente una piena all'interno sempre separate da uno spazio vuoto e infine abbiamo il condensatore cilindrico ovvero due cilindri uno pieno e uno cavo concentrici sempre separate da uno spazio vuoto questi sono i condensatori più comuni adesso rivedremo un po' in dettaglio in cosa differiscono la funzione principale dei condensatori è accumulare carica e mantenerla finché lo spazio vuoto che li separa riesca a evitare un passaggio di carica cominciamo a vedere in dettaglio il condensatore piano alle due estremità di un circuito con differenza di potenziale perché vi ho detto già prima che la differenza di potenziale è il motore in un circuito che fa circolare gli elettroni quindi la corrente elettrica vengono applicate due piastre piane su una piastra si accumulano gli elettroni della corrente caricandola negativamente di contro l'altra piastra acquisisce una carica positiva il dispositivo accumula le cariche fino a quando la differenza di potenziale tra le due piastre non supera la capacità isolante del mezzo l'ho spiegato poco fa quindi che cosa succede che tra le due piastre si crea un campo elettrico e con linee di forza diritte ovviamente se mi avvicino a questi bordi queste linee di forza non saranno più dritte ma saranno deformate quindi per semplicità viene sempre considerato un condensatore piano infinito in modo che i bordi siano lontani perché all'interno del condensatore lontano dai bordi il campo è perfettamente piano quando ci si avvicina ai bordi il campo elettrico non è più piano quindi per semplificare il tutto consideriamo queste piastre infinite e questo il campo elettrico all'interno con queste linee di forza ben dritte perpendicolare ai due piani del condensatore ora questo è il campo elettrico delta V fratto D questo valore ci dà il valore del campo elettrico tra le due piastre il campo elettrico equivale a differenza potenziale fratto la distanza si definisce capacità di un condensatore la quantità di carica massima che un dato condensatore può accumulare e si calcola facendo carica fratto delta V ovvero capacità del condensatore equivale a quantità di carica accumulata tra le due piastre fratto differenza di potenziale e questo mi dà la capacità del condensatore quindi la capacità di un condensatore si misura in farad un farad equivale a un column fratto un volt e si misura con la seguente equazione C uguale a S fratto 4πk0 per D dove C è la capacità del condensatore misurata in farad S è la superficie delle due piastre D la distanza tra le due piastre K con 0 la costante di elettrica del vuoto 9 per 10 alla nonna Newton per metro quadro fatto colmo un quadro e poi per 4π quindi che cosa succede quando la carica accumulata supera la capacità di un condensatore l'ho detto prima abbiamo lo scarico qui abbiamo due condensatori che superano la capacità di carica e ovviamente si crea l'arco elettrico quindi il passaggio di elettroni che passa attraverso il vuoto circostante poi dipende se tra i condensatori c'è vuoto c'è aria in particolare anche l'aria ha una sua costante di elettrica un po' diversa rispetto a quella del vuoto e ovviamente abbiamo qui l'arco elettrico che fa passare gli elettroni quindi c'è lo scarico del condensatore qui ovviamente è stato messo a sicurezza a terra e lo scarico avviene in sicurezza esercitazione calcolare la capacità di un condensatore piano le cui armature quadrate hanno di lato 20 cm e sono poste a una distanza di 3 mm è possibile utilizzare la regola appena spiegata per calcolare la capacità di questo condensatore quindi c equivale a s fratto 4 pi greco k con 0 per d andando a sostituire i valori trovo che visto che le piastre sono un quadrato di 20 cm posso fare 0,2 che sono i 20 cm espresso in metri elevato al quadrato perché l'area di un quadrato è lato per lato ovviamente anche l'unità di misura metro diventa al quadrato fratto 4 pi greco per k con 0 9 per 10 alla 9 a newton per metro al quadrato fratto con un quadro per ovviamente la distanza di 3 mm espressa in metri quindi 0,03 andando a svolgere questa funzione trovo che la mia capacità è di 1,18 per 10 alla meno 11 farad questa è la capacità del condensatore che può anche essere espressa come 11,8 pico farad andiamo avanti e vediamo quali altri condensatori esistono abbiamo il condensatore sferico come detto prima è una sfera cava che contiene una sfera più piccola all'interno e la differenza potenziale si genera tra lo spazio interno che separa queste due sfere qui la formula è diversa la capacità si misura 4 pi greco epsilon con 0 che sarebbe una costante elettrica di questo vuoto che moltiplica il prodotto di due raggi fratto la differenza tra il raggio maggiore meno il raggio minore e il campo elettrico si misura in q ovvero carica accumulata fratto 4 pi greco epsilon con 0 per r quadro mentre la differenza potenziale equivale a q fratto 4 pi greco epsilon 0 che moltiplica 1 fratto r1 meno 1 fratto r2 e qui ovviamente r1 e r2 sono il raggio della sfera interna e il raggio che separa il centro della sfera interna con la superficie interna del condensatore come vedete in queste formule r3 ovvero il centro della sfera interna con la superficie esterna della sfera non compare in nessuna formula epsilon con 0 è la costante elettrica del vuoto nel caso di un condensatore sferico andiamo a vedere i condensatori cilindici anche in questo caso i condensatori sono concentrici un cilindro esterno cavo contiene un cilindro interno pieno sono separati in uno spazio vuoto in cui si genera il campo elettrico e la differenza di potenziale il campo elettrico e in questo caso equivale q carica accumulata fratto 2 pi greco per l l è la lunghezza del condensatore per epsilon 0 mentre c equivale sempre a q fratto delta v quindi a 2 pi greco l per epsilon 0 che divide il logaritmo naturale del rapporto tra raggio maggiore e raggio minore ancora delta v equivale a q fratto 2 pi greco l per epsilon 0 l vi ricordo è sempre la lunghezza del condensatore quindi l'altezza del cilindro che moltiplica il logaritmo naturale del rapporto tra r2 fratto r1 dove ritroviamo questi condensatori cilindrici? ritroviamo qui ad esempio nei circuiti stampati questi sono dei piccoli condensatori cilindrici parliamo adesso dell'energia immagazzinata da un condensatore per caricare un condensatore si deve compiere un lavoro contro le fosse del campo elettrico che tengono a respingere nuove cariche ed è uguale a il lavoro quindi equivale a un mezzo che moltiplica la carica al quadrato che si accumula sull'armatura del condensatore fratto la capacità stessa del condensatore espressa in farad ricordiamoci che la differenza potenziale è carica fratto capacità e quindi la carica equivale a capacità per differenza potenziale allora possiamo dire che il lavoro è un mezzo Q per delta V ma è anche uguale a un mezzo C per delta V al quadrato quindi abbiamo queste due formule per calcolare il lavoro fin tanto che si carica un'armatura accumula energia potenziale così come fa una molla quando si carica una volta rilasciata questa energia può compiere un dato lavoro che può essere utilizzato nei vari dispositivi elettronici qui vediamo alcune applicazioni ad esempio invece di scaricare un cotizzatore lo posso mantenere carico affinché il campo elettrico che genera possa accelerare delle particelle e posso utilizzare questa tecnologia per costruire acceleratori di particelle per esempio questo è l'acceleratore di particelle del CERN che accelera protoni ed elettroni fino a velocità prossima a quella della luce per farli scontrare e vedere cosa esce fuori poi ancora un accumulatore semplice semplice potrebbe essere quello del flash di una fotocamera l'accumula molta energia e poi la rilascia sotto forma di un flash quando si scarica e poi ancora i condensatori vengono utilizzati moltissimo nei sistemi di sicurezza delle centrali elettriche con questa lezione ho finito di parlare della carica elettrica e nella prossima lezione entriamo più nel merito e parleremo della corrente elettrica potete trovare questa lezione ed altre lezioni nel mio corso della fisica facile sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook prof. Antonio Lo Iacono grazie grazie a tutti